I coniugi Trump hanno avuto l'ardire di chiedere in prestito al Guggenheim un quadro di Van Gogh per appenderlo alla Casa Bianca. Se l'idea fosse venuta agli Obama, tra i gourmet dell'intelligenza progressista si spercherebbero le lodi per la sensibilità artistica della coppia presidenziale. Invece la curatrice del Museo New Yorkese ha perfidamente rilanciato, proponendo al posto del Van Gogh, America, vuote d'oro massiccio simbolo degli eccessi e della ricchezza americana. Come ama definirlo il suo creatore. L'eccessivo e ricchissimo Maurizio Cattelan. Sull'antipatia della nomenclatura di sinistra sono stati scritti dei libri. Ma è evidente che non servito. La classe dirigente che si autoproclama democratica accusa Trump di alzare steccati. Quando la prima a costruirli lei, erigendo i suoi pregiudizi a confine insindacabile tra buoni e cattivi, lo farà anche in modo ironico e raffinato. Ma terribilmente saccente. Le persone semplici non la seguono più per si sentono escluse. Compatite. Il rise. Per loro la sinistra ha una festa a cui non verranno mai invitate per mancanza dell'abito giusto. Ed questa sensazione ha connetterle sentimentalmente ai tribuni della destra. I quali saranno sguagliati e non gravati dal peso di troppe nozioni. Ma danno l'impressione sia pure ingannevole che alle loro feste possano imbucarsi tutti. Anche quelli che la fanno fuori dal vaso. Anche che la fanno fuori dal vaso.